Il sole sia con voi, ve lo dico io, torna ancora a rubrichetta semiseria per il recupero della lingua siciliana. Lo sapete che cosa significa abbacare? Vuol dire scemare, sgonfiarsi. Il temporale era forte ma poi abbacò, significa il temporale era forte ma poi si calmò. Quando invece è riferito alle persone, agli stati d'animo delle persone, questi possono essere abbacatelli, abbacatissimi, a seconda quello che è il loro capitato. Abbacare, da non confondere con abbacchiare, perché abbacchiare significa fare di conto, osservare minutamente, abbachino è il libretto dei conti, abbachista è il contabile, il ragioniere che se ne occupa, l'abbaco era una tavola di legno sulla quale appunto si facevano i conti, si computava. Abbacatissimo diventò mercante, abbachiano l'abbacheggio dell'abbachista che ci dicia abbaco alla mano che l'affare aviano abbacato. Praticamente abbattutissimo diventò il mercante, guardando i conti sul libricino del contabile che abbaco alla mano gli diceva che i suoi conti, i suoi affari scemavano. Bella eh? Sembra una scioglilinga. Insomma, la crisi c'è sempre. Ciao, ci potremmo fare, ieri come oggi, abbacamo, abbacamo e abbacamo.